Forward Extreme è il top di gamma NGM, uno smartphone completissimo dal profilo tecnico che si inserisce quindi nella fascia alta del mercato. Il dispositivo si presenta molto bene con una scocca in metallo molto ben rifinita che lo rende solido e resistente. Il display è grande e le misure del dispositivo non sono proprio contenute ma ci si adatta bene all'utilizzo sin da subito. Forward Extreme è uno smartphone basato sull'architettura Mediatek Octa-Core e in particolare vanta un processore con clock a ben 2 GHz, aiutato da 2 GB di RAM. Tantissima anche la memoria a bordo che pur non essendo espandibile ammonta 32 GB. A completare il tutto troviamo il modulo Wi-Fi, il Bluetooth 4.0 ed il GPS. Forward Extreme non possiede la compatibilità con connessione LTE ma troviamo invece l'HSPA+. Il display è di sicuro una delle caratteristiche vincenti, abbiamo una diagonale da ben 5 pollici e una risoluzione Full HD che permettono di avere 401 ppi di densità pixel e quindi di visualizzare qualsiasi contenuto senza nessun problema e senza perdita di qualità. I colori sono ben riprodotti, i neri abbastanza buoni e la luminosità non delude affatto. NGM Forward Extreme è basato sulla versione software Android KitKat e sfrutta una versione leggermente modificata del launcher Google ufficiale. Non ci sono praticamente personalizzazioni ad eccezione del modulo che gestisce il dual sim, l'accensione programmata, alcune gesture tramite movimenti e sensori e un paio di applicazioni preinstallate. Il sistema reagisce bene e si dimostra scattante anche se da un octa-core ci saremmo aspettati qualcosina in più. A livello multimediale il dispositivo non delude, sono ben 18 megapixel della fotocamera e si fanno sentire nel modo giusto. Le foto sono di ottima qualità così anche i video che possono essere registrati in full HD a 30 frame per secondo con autofocus. Buone anche le prestazioni della fotocamera frontale da 8 megapixel che in questo caso si dimostra all'altezza anche per scattare fotografie. NGM Forward Extreme è un top di gamma venduto ad un prezzo davvero ottimo. In questo caso il rapporto qualità-prezzo è di sicuro a vantaggio del consumatore che di sicuro non resterà deluso dall'acquisto di questo completissimo smartphone dual sim.